Prima vittoria in trasferta della stagione, non poteva non portare la firma di chi più degli altri è un po' tra i capi del gruppo, dello spogliatorio per esperienza, per personalità. Per Anagrafe soprattutto, vista l'età. No, una vittoria importante sicuramente che ci serviva perché è vero che stiamo facendo benissimo in casa come d'altronde è vero che fuori casa abbiamo peccato spesso e volentieri raccimolando troppi pochi punti. Era ora di fare il risultato pieno in trasferta, ci siamo riusciti e ora guardiamo con grande ottimismo alla partita difficilissima che ci vedrà impegnati contro la Gelbison in casa. L'ultima serie di risultati positivi proietta molto in alto la Sarnese in classifica. C'è questa consapevolezza di poter andare oltre l'obiettivo di partenza che è la salvezza? Noi sappiamo dall'inizio che siamo una buona squadra, è stato allestito un ottimo organico abbiamo avuto qualche difficoltà magari all'inizio di ambientamento, qualche partita anche un po' sfortunata fuori casa adesso che la classifica si è spaccata in due siamo stati bravi ad attaccarci al treno delle prime abbiamo da qui alla fine del genere di andata tre partite molto difficili dovremmo essere bravi a conquistare quanti più punti è possibile per iniziare il genere di ritorno con tutta la tranquillità cercando poi di raggiungere il prima possibile quello che è il nostro obiettivo stagionale senza poi precluderci altri obiettivi, altri traguardi. I tornei dilettantistici a dicembre inizia un altro campionato tra liste, trasferimenti, svincoli la sarnese in più di parecchie squadre di questo girona è il fatto che quasi certamente rimarrà intatto il gruppo ci saranno magari minime modifiche però non si cambia e questo può essere un punto di forza rosso. Sicuramente come è stato un punto di forza mantenendo l'ossatura dell'anno scorso con degli innesti mirati che si sono rivelati azzeccati chiaramente le squadre che sono più in difficoltà o quelle che non siano prefissate gli obiettivi che all'attuale classifica non li vedono come chi voleva salvarsi magari a qualche difficoltà chi voleva vincere il campionato si vede un po' indietro saranno costretti a stravolgere un po' quelli che sono gli organici di partenza chiaramente avranno bisogno poi di un periodo di assestamento per questi nuovi innesti noi probabilmente questi problemi non li avremo e cercheremo di sfruttare al massimo la continuità del nostro progetto. Che avversario sarà la Gelbison, una squadra che fin qui ha fatto vedere delle buone cose è composta da gente di categoria e qualche giovane interessante? Un avversario sicuramente ostico, una squadra esperta di categoria ormai è tanti anni che fa questo campionato sempre con risultati eccellenti in base a quelli che erano i programmi della società sarà sicuramente una partita difficile noi dobbiamo continuare questo rollino di marcia impressionante che abbiamo in casa perché i tre punti della partita di domenica saranno fondamentali come ho detto prima per affrontare con più tranquillità il giorno di ritorno